Questa è la spiegazione a mo' di gioco di come sono scappato da scuola. Il professore era qua che dormiva, ma ragazzi si è addormentato, guardatelo! Allora avviciniamoci, cerchiamo di fargli qualche scherzetto. Ehi! Oh la campanella ragazzi, dobbiamo scappare! Ok, ho posizionato la sedia, hop! No, non riesco a salire ragazzi, hop! Vai! Prima che si svegli il professore, ce l'ho fatta! Arrivederci professore, via 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 la campanella! Allora, stavo scappando dalla mia scuola, esattamente! Sono poi finito in questo condotto d'aria, dove ho trovato queste botule che, oddio, ragazzi, mi inseguivano! Ma era spaventoso! Ok, scappo per di qua e se non sbaglio c'erano delle sca... Eccole qua le scale! Ok, c'è un piccolo ascensore, bottone degli ascensori! Come devo fare? Ok, ho schiazzato... Ma dove va l'ascensore? Ah, ok, torna giù! Perfetto, vado su, vado su, vado su... Opla, eccoci arrivati! Un piccolo saltino di qui, un piccolo saltino di là... Oh, e siamo arrivati all'uscita? Cos'è questo posto? Ok, forse devo fare canestro! Opla! No, non devo fare canestro! Con lo scatolone! Prendo lo scatolone e lo appoggio! Non ci arrivo, ragazzi, ma come faccio? Ah, c'è la scala, ragazzi! Ok, appoggio la scala qua! Ragazzi, ditemi nei commenti se voi siete mai scappati da questa scuola di Roblox! Ragazzi, sentite, c'è il professore che dorme! Lo riesco a sentire, ragazzi! Sentite, sentite, sentite! Eccolo qua che dorme! Ah, ah, professore! Non ci prenderai mai! Papo, pepo, papo, pepo! Il professore, ragazzi, non ci... Oddio! Ragazzi, è uscito il professore! Devo scappare! Devo scappare! Dove devo andare, ragazzi? Devo andare di qua! Scappa, amico! Palestra, scienza? Serve una chiave, ragazzi! Dov'è che la recupero, la chiave? Oh, mio Dio, il professore è arrabbiatissimo! Eccola, ragazzi, la chiave! Ti prego, amico, prendi la chiave! Opla, presa la chiave! Ah, ah, professore, non mi prenderai mai! Eccola, ragazzi! Inseriamo subito! Oh, oh! Ah, ah, professore, ciao, ciao! Un po' di sano e vecchio allenamento acrobatico! Oh, attento a non cadere! Scrivetemi nei commenti, ovviamente, qual è il vostro sport preferito! O quello che comunque praticate! Ok, stiamo molto attenti, ragazzi! Ok! Ok, perfetto! Oh, schiaccia il pulsante, eh! Mi aggrappo! Oddio, sto volando giù, ragazzi! Boing! Vai! Boing! Vai! Boing! Vai! Boing! Vai! Perfetto, ragazzi! Ormai sono un esperto! Raga, io ero anche molto bravo in palestra, devo essere sincero! E i canestri erano la mia specialità! Allora, prendiamo subito un canestro e dobbiamo centrare l'obiettivo! Hop! Ta-da! Ragazzi, c'è il professore! Oh, mio Dio! Non mi vede, non mi vede, non mi vede! Oddio, mi ha visto! Mamma mia, ragazzi, è arrabbiatissimo questo professore! Scappiamo! C'è il bagno, ragazzi, devo andare in bagno! Il professore è dietro! Oh, mio Dio! Ok, apriamo la porta! Cos'è che c'è nel bagno? Oddio, una botola! Oddio! Vai, sono scappato! Ha-ha, professore! Ha-ha! Professore, professore! Giù per il tubo! Mamma mia! Ok, ragazzi, devo prendere questo pallone e centrare l'obiettivo! Non l'ho preso, riproviamo! Prendo il pallone e centro l'obiettivo! Preso! Andiamo, andiamo prima che si rompa tutto! Ok, vicolo di aereazione, siamo molto attenti qui! Sposto di qui! Oh, mio Dio, devo spostarmi subito di qui! Bravo, Mico, ora spostati subito di qua! Attento, Mico! Dov'è l'uscita? Eccola! Me la ricordavo qua, ragazzi, eh! Ok, scendo da questo tubo! Perfetto! Sinistra o destra? Sinistra! Sinistra ancora! E giù di nuovo per il tubo! Uh, sono scappato, ragazzi! No, non ancora! Cos'è che sta bevendo? Una bibita energetica! Oddio, sono velocissimo! Cos'è? Devo fare questo parkour! Vai, Mico! Fai il parkour! No! Ok, ragazzi, riprovo il parkour! Vai! C'è anche un altro studente, ragazzi, che sta provando a scappare da questa scuola! Vai, vai, vai! Ragazzi, se avete dei consigli da darmi, datemeli, mi raccomando! Datemi dei consigli, raga, perché è la mia prima volta, poi, che scappo da scuola! Se qualcuno lo ha già fatto, me lo dica! Ok! Oddio! Uh! Ma che brutto! Che schifo! Che schifo! What? Non me la ricordavo questa parte! Professore! Quindi hai tre rossi? Vai, vai! Ehi, è partito prima, ragazzi! Fermati qua! Fermati subito! Vieni qui! Prendo subito lo sprint! Vai, vai, vai! Come ti sorpasso! In interna! Bella questa interna! Entra subito! Scappa da questa scuola, amico! Scappa da questa scuola! Non pensare al professore! È dietro di noi, raga! È dietro di noi! Vai, vai, vai! Salta tutto! Prendi lo sprint! A destra, a destra! Wow! Salto! Bello questo salto! Prendi subito questo sprint! Stai molto attento! Ce l'hai dietro il professore! Là ci sono delle scale! Ok? C'è il buco! Quindi devo spostarmi da sinistra a destra! Ok? Sinistra! Destra! Ok! Perfetto! Destra ancora! Vai! Uh! Siamo scappati! Dai! Non è vero! Non ancora! Ok! Vincitori! Siamo noi! E siamo noi! Ok, ragazzi! Ora ho un dubbio! Devo arrampicarmi qua? Ok! Mi arrampico sul tubo! Ok! Devo fare del sano parkour! Opla! Mi ricordavo una cosa del genere io, ragazzi! Ok! Saltino! Perfetto! E salto ancora! Bravo, amico! Chi è? Ragazzi, chi è questo? Chi è? Oh mio Dio! Cosa devo fare? Devo colpirlo, giusto? Prenditi questo! Oddio, cos'è? Prenditi questo, professore! Oddio, mi sta ferendo però a me, ragazzi! Aiuto! Sto prendendo un sacco di danno! No, 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 no! Devo stare attento! Prenditi questo, professore! Si prenda questo! Sta soffrendo, eh! Prenditi questo! Tutta questa schiuma in faccia! Mamma mia, già metà vita! Devi schivare tutto, eh! Oh! Questo laser, ragazzi, mi fa un sacco male! Spara, 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 spara! Evita tutto, evita tutto, amico! Evita tutto! Dai, dai, dai! È quasi fatta! È quasi fatta, ragazzi! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Siamo scappati, ragazzi! Ok! Ciao, ciao, scuola! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ora salgo, ragazzi, qua! Mi faccio entrare! Oh! Oh! Ho il fiatone, ragazzi! Salve! Mi porti pure dove vuole! Mi porti pure dove vuole! Vada pure! Io sto qua, intanto faccio un pisolino, eh! Ah! Sono arrivato! Cosa è successo? Oh! Abbiamo completato il livello, ragazzi! Siamo scappati da scuola! Grazie mille! Mai più scuola! Va bene, ragazzi! Per questo video... Oh! What? Ragazzi! Ma cosa sono diventato? Una guardia della sicurezza? What? Chi è con l'uomo lì dietro? Ragazzi! Lo scopriremo nel prossimo video! Mi raccomando, ragazzi! Iscrivetevi! Mettete un bel like! Io vi aspetto, come sempre, in live! Sempre qua su YouTube! Tutti i giorni, dalle 14 e 30 barra 15! Iscrivetevi! Mettete la campanellina! E commentate sotto l'ultimo video con Alberto! Se siete arrivati fino a questo punto del video! E io vi ringrazio tantissimo per questo video! Mettete un bel like! E ci vediamo negli shorts! Nei reels! Dove vedete, ragazzi! Ci vediamo qua su YouTube! Un bacio a tutti e sciumme! Ciao, ragazzi! Fin del capibara e anche la stumble stein! Chissà, ragazzi, se la sciopperò! Boh, non si sa, ragazzi! Poi qua c'è la ruota slittino da neve, ragazzi, che un po' mi incuriosisce! La skin epica, ovviamente, ragazzi! Io ho un giro! Prima di un'altra partita me lo faccio! Ti prego! Ti prego! Ti prego! Speriamo, ragazzi, di trovare qualcosa! Dammi la skin speciale! Non ci dà la skin speciale, ragazzi! Ci dà la mummia! La mummia, ragazzi! Ci dà il frencone! Ci dà! Mannaggia! Facciamo una seconda partita molto veloce, ragazzi! E andiamo a giocare, poi, la nuova mappa! Ragazzi, io sono pronto a perdere! Paint Splash! Non riesco mai a giocarlo, ragazzi! Attenzione, ma c'è ancora Giulio! Mi sembra di avere letto Giulio, ragazzi! C'è ancora il nostro amico Giulio! Oh mio Dio, ragazzi! Giulio sempre presente! Grandissimo! Devo riprendere la mia bandiera! La mappa più odiosa di StumbleGuys, ragazzi! Stavamo vincendo 7 a 0 e abbiamo perso 6 a 5! È incredibile, ragazzi! Io giuro! Non me lo spiego! Purtroppo, ragazzi, la partita è andata così! Mannaggia! Mannaggia! E ancora mannaggia! Io non ho parole, ragazzi! Perdere così mi dà proprio fastidio! Voi direte, sì, ok, amico, hai perso, non ci interessa, dov'è la mappa nuova? Ragazzi, allora, mettiamoci subito la skin base, ragazzi, la nostra amica skin base e andiamo subito, ragazzi, a vedere la nuova mappa! Si ci viene consigliato di non cadere! Di conseguenza, ragazzi, potrebbe essere molto, molto, molto simile! Anche perché i blocchi che si avvicinano sono come le macchine, ragazzi! Diciamo che il format è sempre quello, ragazzi, forse c'è stato quel consiglio in più! Io vi dico, ragazzi, con l'emoticon quella mappa là sarà molto bella! Perché immaginate di essere sopra l'auto qua in cima e di fare PAM! E di andare a punchare il vostro avversario! Secondo me, e dico secondo me, è tanta tanta roba! Poi non lo so, ditemi voi nei commenti! Rimasti in 1v1! Tempo di punchare questo qua! Oh, che super punch che gli ho tirato! Mamma mia! Tempo di puncharlo, ragazzi, e vinciamo la partita! Vai, Mico, super punch, Mico! Oh, per un pelo, però l'ho preso comunque! Ma prova il super punch, Mico! Provalo qua! Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? È andato! Siume! Vittoria più che meritata! Like meritato, ragazzi! Mettete un bel like! Mettete un bel like!